Nessuno mai dovrebbe morire. A questo metterò fine. No, non puoi ingannare la morte. Non possiamo saperlo, finché non proviamo. Io avverto quanto state sostenendo non solo è illegale, è anche immorale. Cosa ti è capitato? Sì. Ecco la combinazione. Vivi! No! È vivo! No! 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 Ti sei mai fermato a riflettere sulle conseguenze delle tue azioni? Grazie per la visione!